E' scattato da sabato 7 novembre il coprifuoco dalle ore 22 come nel resto d'Italia. Da sabato mattina però nella città di Salerno un'ulteriore stretta con la chiusura di tutto il lungomare di Salerno, da piazza della Concordia alla spiaggia di Santa Teresa, compresa la villa comunale. Ci sono nastri biancorossi, quelli definiti California, a far comprendere da sigillare tutta l'area del lungomare di passeggio che per i prossimi weekend fino al 3 dicembre porterà alla chiusura dalle 8 e 30 del mattino del sabato alle ore 5 del lunedì. I vigili urbani di Salerno, di Buonora, hanno predisposto la chiusura così come stabilito dall'ordinanza del sindaco Napoli, che è stato tra i primi a recepire l'invito lanciato dal governatore De Luca. Si tratta delle prime interdizioni applicate, ha detto il primo cittadino, effettuando un sopralluogo sul lungomare che non ha escluso dopo questo weekend ulteriori chiusure. Dettaglio da non trascurare ed escludere perché sabato scorso se il lungomare si è mostrato vuoto con la sola presenza di pattuglie di vigili urbani e camionette dell'esercito, il corso Vittorio Emanuele ha fatto registrare un consistente afflusso di gente, tante persone un po' ovunque così come nei parchi, in primis il parco del mercatello ed il parco Pinocchio. D'altronde una splendida giornata di sole non faceva pensare che le persone rimanessero in casa, ma c'è di più, il sindaco non esclude anche ulteriori chiusure di piazze che nelle ore serali fanno altrettanto registrare assembramenti. In ogni caso il questore della provincia di Salerno, Maurizio Ficarra, ed i vertici dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, colonnello Gianluca Trombetti e generale Danilo Petrocelli hanno assicurato il massimo impegno dei propri uomini sia nel capoluogo che in provincia. Così come è successo in realtà da quando è iniziata questa purtroppo triste fase del nostro paese, del mondo intero, sull'emergenza coronavirus, si sono interconnesse in questo momento diverse ordinanze, sia quella del DPCM a cui le faceva riferimento, le ordinanze del Presidente Regione ed anche adesso l'ordinanza del sindaco di Salerno. Noi ovviamente abbiamo predisposto quanto necessario, intanto facendo un tavolo tecnico in questura insieme alle altre forze di polizia, per far sì che specie da questa sera intensifichiamo ulteriormente, col contributo non solo delle forze di polizia ma della polizia municipale e dell'esercito, i controlli sia nella direzione della mobilità che non è consentita dalla 22 alle 05, sia nelle disposizioni che impediscono anche l'attraversamento interprovinciale, se non per ragioni che voi già sapete di necessità, di salute o di lavoro. Noi cerchiamo sempre di far comprendere alla gente che deve essere un fatto culturale, psicologico di capire il loro comportamento. Se lei me lo consente, io oltre a ricordare quello che ha detto lei, c'è il contributo che tutte le forze di polizia danno per questi controlli che faremo e saranno estringenti, io ancora una volta devo fare un appello, un invito ai cittadini salernitani ma soprattutto agli esercenti dei pubblici esercizi, delle attività commerciali a ricordarsi che al loro interno devono sempre mantenere le distanze sociali, devono per coloro che non sono palesemente congiunti, a partire dal bar, al ristorante a pranzo perché poi chiudono dopo 18, negli esercizi commerciali alla cassa o altro, bisogna che anche gli esercenti debbano far mantenere la distanza a tutti i cittadini che non sono palesemente congiunti di almeno un metro. È importante perché specie nei pubblici esercizi se si sta vicini e poi ci si abbassa la mascherina, si lascia il naso scoperto, non abbiamo risolto nulla. Quindi prego tutta la cittadinanza, gli esercenti dei pubblici servizi di darci una mano in questa cosa. C'è il rischio sanitario ma ovviamente non bisogna dimenticare che siamo in una fase, la cosiddetta zona gialla dove la mobilità è parzialmente ridotta ma si potrebbe passare velocemente ad un livello di restrizione molto più elevato. Certo, questo è il rischio e non dipende ovviamente da noi né dalle istituzioni ma dipende soltanto dai dati del contagio che dovessero emergere e di conseguenza noi ci regoleremo ad attuare anche quelle nuove disposizioni che dovessero arrivare. Speriamo che non arrivino se i dati siano più confortanti.